E magari se lei non si è stata con me, adesso sarei sposato, se fossi stato, non sono mai stato così, insomma vai, adesso sono qui, vuoi che dica che sei soddisfatto di me, fronte in fondo non sono mai stato soddisfatto di che, ma va bene che sia, qualche volta mi sono sbagliato. Ehi, liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa, chissà cos'è, chissà cos'è. Ficché eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Ficché eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, cosa che, cosa che cosa sì. Quella voglia, voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dove, chissà dove. Grazie a tutti.